Ci sono dei margini di miglioramento notevoli attraverso l'attività di trapianto, può essere promossa la ricerca, molti settori di ricerca medica sono legati al trapianto e noi intendiamo proprio percorrere questa strada e penso che la fondazione così come è stata presentata abbia delle ottime chance di riuscire in questo senso. Il laboratorio della genetica dei trapianti è importante anche perché permetterà di combinare dei match donazione e ricevente molto più importanti e permetterà anche magari di fare passi avanti su alcune malattie ad esempio che attualmente sono poco conosciute o addirittura sconosciute ma che attraverso queste combinazioni genetiche potrebbero dare dei frutti positivi in termini proprio di avanzamento di ricerca.